Mi spiace molto perché comunque eravamo sopra 2-0, il terzo combattutissimo, come si può vedere dal punteggio 32-30, è stata una bellissima partita, complimenti a San Casciano, ha fatto benissimo, Bisonte è veramente bene, ci hanno girato la partita, sono stati bravi, 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 noi purtroppo siamo un po' calati anche in aggressività e si sono portati loro a casa la partita e bravi loro, complimenti. Bisonte si è attivato parecchio in difesa e noi non riusciamo a mettere la palla a terra perché loro erano dei gatti e quindi ci siamo nervosite di conseguenza, hanno aumentato il livello di difesa, noi abbiamo calato e è così.